è arrivato da pochi attimi qui a termoli con la sua imbarcazione crevizza se non vado errato crevizza che appunto l'imbarcazione che vedete qui che abbiamo già fotografato mauro pelaschier che magari più giovani non si ricordano ma nel lontano 1983 lui era il timoniere di la famosa barca azzurra che poi vinse anche la coppa america se non vado errato la prima sfida italiana la coppa america ci fecero diventare tutti velisti in quel periodo perché veramente è stato un successo bella che eravamo sia come tecnologia che come equipaggio tutti italiani allora la regola della coppa america era questa dunque il progettista il costruttore le vele e tutto erano progettate costruite in italia noi l'equipaggio erano completamente italiano e quindi fu veramente un gran successo mauro mi scusi lei però oggi è qui a termoli e oltre per farsi appunto una bella diciamo circonnavigazione della della penisola ma per uno scopo ben preciso ben specifico ci vuole raccontare il perché oggi lei è anche qui a termoli dunque io sono ambassatore di one ocean foundation istituita dalla principessa aga khan e zara aga khan dove l'oriotto club costa smeralda ovviamente il principale artefice di tutto questo è il principe karim aga khan e il presidente e hanno voluto assolutamente lavorare in prima persona contro le plastiche in mare dunque cercare di grande flagello per la fauna marittima e non solo per noi stessi anche per la fauna umana soprattutto e dunque il sì un viaggio che io faccio da sono partito da trieste e arriverò a genova toccando molti porti portando la carta smeralda cos'è la carta smeralda è semplicemente una serie di 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 diciamo i comandamenti per un comportamento adeguato per salvaguardare il mare cioè noi noi marinai per primi che che udofriamo di questa magnifica parte della natura dobbiamo essere i primi a testimoniare da una parte e educare poi i giovani a comportarsi adeguatamente e se possiamo anche gli adulti ma voi in questo in questo giro in questa circonnavigazione che la porterà da trieste fino a quando vi fermate nei porti farete anche una sorta di convegno qualcosa per sensibilizzare queste esatto noi facciamo ogni studio di tappa ce ne saranno 12 la prossima è Bari e facciamo una conferenza il venerdì e il sabato poi con bambini della scuola vela facciamo un'opera di pulizia di una spiaggia di un circolo piuttosto del porto anche l'esame pratica insomma quindi sì anche perché le nuove generazioni sono molto attenti a questo problema molto più degli adulti e dunque se noi educhiamo i bambini a comportarsi meglio probabilmente anche i genitori dopo si comporteranno meglio e dunque cercheremo di salvare il mare in qualche modo senta io penso di sapere immaginare che idea si è fatto già questo primo suo approccio partendo da trieste perché comunque il problema esiste da parecchio lei lo sta soltanto sensibilizzando ancora di più perché comunque è da sensibilizzare verso il mondo esterno ma in questo momento che risultati sta avendo in questo suo giro diciamo che il mare si sapeva già io sono 60 anni che navigo e quindi posso dire di aver visto il degrado in questo piccolo spazio di tempo della vita della terra e siamo riusciti con la plastica dal 53 in poi a distruggere veramente l'elemento principale per la nostra vita l'acqua e quindi al di là di quello voglio dire io ho trovato nel senso di tappa sempre delle persone molto attive nella ricerca nella ricerca che vuol dire trasformare le plastiche in le microplastiche in particolare quindi la raccolta prima e poi il riciclaggio in modo tale da non produrre più plastiche nuove cioè il nostro obiettivo è questo cioè sensibilizzare le persone a non comprare più le plastiche usa e getta e comprare quelle riciclate e vuol dire questo si forma un circolo chiuso non si produce più plastica ma si chiude a quella esistente lei pensa che questo suo volere il suo di tanta altra gente dell'umanità intera possa avere un fine positivo in questo senso ma io sono ottimista in questo sono ottimista quindi diciamo che come come uomo quello che voglio dire la situazione non è compromessa già fatica è compromessa dobbiamo agire subito la mia posizione è quella di sensibilizzare più persone possibile cioè se siamo in tanti probabilmente qualcosa accadrà se nessuno e se nessuno guarda il mare tutti si girano dall'altra parte sicuramente il mare morirà bene signor Mauro noi siamo contenti che lei abbia intrapreso questa bella avventura sul mare che è la sua seconda il suo habitat probabilmente perché un uomo è il primo habitat sicuramente siamo contenti che ci sia appunto gente come lei che possa creare sensibilizzazione verso questo problema che è un grosso problema e ripeto forse chissà se riusciremo a essere tempi estivi nell'evitare una catastrofe che poi non avrà più però il fatto che c'è qualcuno che ci sta tentando già è positivo anche questo assolutamente ma soprattutto ho notato i giovani laureati biologi o ingegneri che si stanno occupando seriamente di questo problema e questo per me è un fattore molto positivo dunque guardo guardo il futuro con un po' più di possibilità. Ebbè certo i giovani soprattutto certa parte dei giovani sono la speranza per la futura perché comunque al di là di quello che si possa dire ai luoghi comuni sui giovani ma ci sono tanti tanti giovani che veramente sotto queste problematiche sono molto sensibili e lei ne ha avuto modo di constatare sta da facendo. Assolutamente questo è vero quindi sono felice di questo. Bene Mauro in bocca al lupo per il suo cerco di navigare. In culo alla balena. Noi diciamo anche buon vento perché visto che avete anche la possibilità di navigare con il vento anche se oggi è calma piatta. Noi siamo superstiziosi quindi andiamo un po' in là. Bocca al lupo e magari la seguiremo sui social sui vari... Sì no voglio dire che ecco una cosa importante la carta si può firmare anche su internet basta andare sul sito della One Ocean Foundation e lì ci sono tutte le carte per iscrivervi, non costa niente quindi è gratis semplicemente farete parte della nostra fondazione e riceverete tutte le informazioni su quello che... Non vorrei sbagliare mi corregga se sbaglio ma qui a Termoli e come in altre spiagge d'Italia, località Maria d'Italia, c'è un periodo dell'anno prima dell'estate c'è l'Ocea Foundation che fa le pulizie delle spiagge, le risulta questo? Assolutamente sì. E allora siamo in contatto anche con questo. Dobbiamo unirsi tutti anche perché lavorando insieme ovviamente si ottiene molto di più. Benissimo, in bocca al lupo e rinuovo in culo alla balena. Grazie.